guardala guardala che c'è? è sabato amore il sole è alto in cielo non sei contenta? amore castigo al lucrazietta nazionale perpetuato insinuato non è reato hai sanzicato? hai sanzicato schifo? no no oggi c'è il sole amore quanta che te perdite come hai sanzicato amore? è andata a mia mamma? è andata a venerà? no poi ti scusa? come? vediamo vediamo già tanto che andiamo a pranzo amore hai toccato con mano l'esterno oggi eh amore hai fatto... ma mano difficilmente si arrabbia un motivo ci sarà... esci da quel corpo esci lascia il corpo di mia figlia ma cosa per te dentro di lei? eh amore dai ti dirà direzione un sabato casalingo guarda che bello 126 stupendo conservato financia targa originale agricento stupenda che belli che sono guarda quanto sono belli e amore servirà direzione a a rispondere meglio a non farsi coinvolgere schnauz e a non portare la pazienza a babaus a livelli a babaus servirà questo? questo sabato casalingo? come? volevi chiedere scusa a mamma? eh? si come? si si volevi chiedere scusa? ciao dammi un bacino dammi un bacino dai dammi un bacio animale bella di casa sta crescendo ed è un po' schnauz ci siamo passati tutti ne freghiamo spalachiamo andiamo a mangiare e poi a casa ma io da così? sei contenta? ma dov'hai? pettetti? ha detto mamma che puoi uscire? stiamo parlando nel politico per la sera ah quindi il poveriggio puoi uscire stasera a casa va bene quello che ha detto mamma va bene sta succedendo per uscire sempre lo prossimo basta con portarsi meglio non è difficile? ce la puoi fare? ciao a tutti ciao a tutti